Il luogo tenente Rosino, comandante la sessore Gabriele di Soncino, due giorni fa ha notificato a un disoccupato già censurato di Soncino una misura coercitiva personale emessa dal GIP del Tribunale di Crema nei suoi confronti in quanto imputato di lesioni e atti persecutori di cui ha 612 secondo comma, nei confronti di questo signore che sul posto di lavoro ha creato dei seri problemi al caporeparto quando gli è stato negato il permesso, un permesso di poche ore che lui aveva rappresentato nella sua esigenza, perciò creava problemi all'azienda, l'azienda gli ha negato il permesso e lui ha reagito aggredendo il caporeparto che gli aveva negato questo diritto. In conseguenza di queste lesioni è stato raggiunto da un licenziamento per giusta causa quando lui ha continuato a creare problemi al suo caporeparto. Addirittura dopo questo licenziamento lui ha atteso un agguato a questo collega responsabile della ditta, alle 6 del mattino si è incampucciato, l'ha impredito, l'ha tenuto per terra per potendolo, preoccupandogli delle grave lesioni. Questo davanti all'azienda? All'interno proprio dell'azienda. C'è stata questa sua intrusione nell'azienda. Ha incontinuato, ha cominciato a penginarlo per strada, a minacciarlo per strada, gli ha atteso degli agguati, ha avvicinato i parenti del caporeparto facendogli capire che potevano succedere qualche altra cosa, infine ha riportato delle minacce e delle offese anche sul sito, sulla pagina del caporeparto, insomma, col Facebook ha inserito delle minacce. Il maresciallo Rosini ha preso atto di questo, di portarsi di questa situazione, oltre a fare l'informativa cronologica di tutti gli episodi, ha dovuto chiedere l'adozione di questa misura che in un certo modo cautelasse la parte lesa, ma anche la collettività della intemperanza di questo signore. Il giudice per l'intensi preliminari ha immesso questa misura che inibisce gli spostamenti di quest'uomo, evita che lui si possa avvicinare a meno di 200 metri dall'abitazione, dal posto di lavoro, dalla persona del caporeparto, ma anche dai suoi parenti. E ha anche di comunicare in qualsiasi modo con questo signore che ha vissuto questa bruttissima esperienza. Inizio dal mese di gennaio dello scorso anno, a seguito di problemi sul lavoro legati ad un diniego di un permesso, in pratica l'aggressore viene negato a un permesso da parte del suo responsabile, e la reazione di questo sfocia in un'aggressione fisica violenta che determina il licenziamento per giusta causa. Successivamente l'aggressore inizia ad attribuire al suo attore di lavoro tutta una serie di responsabilità in ordine al suo stato di disoccupazione e di conseguenza inizia a perseguitarlo sia da un punto di vista informatico tramite Facebook, fermandolo per strada, aggredendolo verbalmente in mezzo a tre persone, sino a che a novembre dello scorso anno, alle 6 di mattina, lo stalk si introduce proprio fisicamente all'interno dell'azienda dalla quale era stato licenziato e sul posto di lavoro aggredisce e percuote, procurando le visioni gravi, la vittima. Questo ha la presenza anche di altri colleghi, tra l'altro. In conseguenza di ciò, la vittima ha iniziato ad avere veramente dei timori, delle state di ansia, di panico che si sono colpagate anche nell'ambito del familiare e hanno determinato in lui un mutamento delle sue abitudini, quindi l'impossibilità di partecipare alla vita sociale tutti i giorni, non riuscire in paese, eccetera. Questo è stato determinato proprio per l'emissione da parte del GIP di crema di questo provvedimento di cose da rotolare, che in pratica inibisce al soggetto tutta una serie di atteggiamenti e comportamenti che, se violati, determinerebbero sicuramente l'arresto. Grazie.